Ciao a tutti amici di Missione Natura Siamo qui nella provincia biellese vicino al lago di Verone per andare alla scoperta dei riti di accoppiamento dei galli Guardatemi, è lì La gallina è già prona a pecorina Noi ci stiamo avvicinando lentamente perché è un gallo molto pericoloso È il gallo dei bersaglieri, quello che veniva mandato in battaglia prima della fanteria Avviciniamo, ci sta guardando, fermi tutti Piano, utilizzate la tattica di mimetizzazione del gallo Vedete, si sta facendo avvicinare Ho iniziato a stringere con lui un legame molto forte Come vedete, anche la gallinella storna Sarà pericoloso Attenzione, mi sto avvicinando, sto andando oltre il limite di cui ogni uomo è andato È questa linea rossa Nessun uomo ha mai attraversato questa linea Ma io lo sto facendo solo per voi, amici di Missione Natura Attenzione perché è pericolosissima, c'è il rischio di inciampare Ma sta arrivando il più temibile cacciatore di galli L'uomo Scappa, scappa, scappa